ciao a tutti per questo video mezzo lotus finalmente visto che il sondaggio è andato bene su una settantina di persone praticamente tutti avete votato a favore del ritorno dei video di ruling eccomi qua quindi cerco di andare un po veloce bando alle ciance anche se devo fare un po di precisazioni e dire un po di cose ma come al solito mi invito a lasciare mi piace commentare iscrivervi al canale che davvero la base e ci aiuta tantissimo e notevi ricordo il nostro sponsor fantasy store punto it poi vedete il loro sito sono molto forniti e molto molto veloce spedire e con noi avete il codice lotus 5 il 5% di sconto sui prodotti non descontati quindi approfittatene perché trovate sicuramente qualcosa di interessante perché hanno davvero di tutto del mondo nerd allora come dicevo avevo chiesto però non sono state ancora commenti riguardo se vi fosse è piaciuto un formato diverso particolare per quanto riguarda i ruling io ho posto ovviamente una raccolta di interazioni combo sinergie domande vere e proprie insomma classiche cose però se c'è qualcosa di particolare che vi piace che volete che venga trattato o che venga trattato in un certo modo fatemelo sapere nei commenti quindi i ragazzi di nuovo mi ripeto soprattutto per questo video è molto molto importante il commento perché se questi video vanno bene questi ruling e fanno buoni numeri siamo incentivati a farli se siamo gentili a farli vuol dire che possiamo farli anche settimanalmente mensilmente quello che è e quindi avere questa rubrica di nuovo fissa perché giustamente noi portiamo i video ok scegliamo argomenti e cerchiamo robe che secondo me sono interessanti sempre freschi le cose nel momento però cerchiamo di portare sempre quello che piace a voi cerchiamo di venire incontro le vostre esigenze se noi sappiamo quindi qualcosa va bene e funziona siamo molto incentivati a portarla se invece purtroppo non funziona dobbiamo dare spazio a ovviamente cose che invece vanno bene ma è una questione semplice perché anche se noi facciamo tanti video perché sono davvero tanti abbiamo degli slot limitati non abbiamo infiniti slot e quindi giustamente li mettiamo perciò che ciò che chiedete ciò che volete di più i ragazzi di nuovo poi basta è importante davvero fatemi sapere se può andare bene se vi piace e se sì cosa volete magari vedere e come detto questo cominciamo perché appunto ha fatto troppo problema allora la prima è la combo la combo una combo poi sono tre ruling allora la combo che presento è con star fall invocation e dual caster maggi una carta nuova è appunto la star fall invocation che hanno avratta molto molto bella soprattutto in commander allora ha la meccanica gift card quindi voi quando castate questa sorcery promettete un regalo a un avversario in multiplayer non siete obbligati a scegliere l'avversario che subisce diciamo più danni o l'effetto delle carte con gift in questo caso navratta quindi poco rilevante questa cosa però considerate che è importante magari altre carte dovete fare dovete fare un gift a uno dei vostri avversari punto gift card vuol dire che regalate una carta che loro pescano buon fine con le sorcery stand come funziona gift funziona che è legato che quando la specie risolve prima di tutti gli altri effetti della carta voi risolvete il gift quindi in questo caso prima di farti gli effetti di distruggere eccetera eccetera un avversario pescherà perché è una carta bella perché anche a sé stante è molto forte soprattutto in commander come dicevo perché fate tappo 5 sbratto regalo una carta uno dei miei avversari quindi il fatto di che uno peschi la sento lo si sente molto molto di meno perché non è uno contro uno e con l'effetto che ha cioè di rianimare una creatura morta con questa vratta quella che volete non per forza vostra è davvero molto forte rubate la creatura migliore siete gli unici tendenzialmente con la creatura in campo e anche la creatura magari forte quindi ci sta qual è la combo dual caster mage allora voi tirate questa fratta e in risposta fate il dual caster mage quindi due caster mage risolve entra per primo avete il 22 in campo con la sua trigger la sua trigger cosa dice quando entra create una coppia di un instant o sorcery e poi ovviamente potete scegliere i nuovi target in questo caso non ci sono target e vabbè amen allora cosa succede se voi copiate una carta con il gift promesso una distante sostri allora che succede voi create una copia paro paro quindi create una copia di star fall invocation giftata quindi con il fatto del gift che l'avversario pesca la carta attenzione sarete obbligati a scegliere lo stesso avversario non potete scegliere un altro questo è importante ai fini della combo vedremo adesso presto perché ma anche se i più esperti secondo me hanno già capito potenzialmente che succede a questo punto avete in pila perché il dual caster mage risolto la star fall invocation pinta quella generata dal mage e quella originale risolve ovviamente prima la finta la finta risolve muoio tutte le creature avete fatto il gift quindi rianimate una creatura che volete che è morta con la fratta il dual caster mage stesso perché ovviamente era per terra e avete fatto risposta alla fratta quindi a questo punto in pila c'è ancora la star fall invocation originale però viene soppiantata non risolva ancora dalla trigger del dual caster mage che è appena rientrato qui che succede con la trigger del dual caster mage che appena rientrato potete ricopiare la star fall invocation originale e quindi lup potete continuare a ammazzare rientrare ammazzare rientrare del caster mage come vincete non vincere perché non potete ammazzare il tavolo ma potete ammazzare un player perché con appunto gift a card obbligate l'avversario che avevate scelto a continuare a pescare e quindi lo potete deccare e poi con l'ultima copia vi potete rianimate il vostro ultimo dual caster mage o quello che è di gis tranquilli e fate le vostre cose avete almeno un due due quindi ecco qua la combo serviva poi attenzione a ben 1v1 è un po così in realtà comunque può anche essere carina magari se giocate in multiplayer quando grindate e dovete ammazzare l'ultimo giocatore perché non gli ammazzate contemporaneamente considerate che non tutti giocano se di age anzi gran parte non gioca se di age e i massi massimo sono ottimizzati quindi queste carte comunque sono forti si possono usare non sono brutte ecco di age una combo un po così ovviamente poi questo invece è per i giocatori di zigna che so che apprezzano molto questo nuovo comandante è stato molto discusso perché è fortissimo con carte di commander ovviamente staple abbiamo questo comandante di sky aquinas non muoio cosa fa ma qua siamo sulle parti di ruling allora costa punto c'è sky 13 volare prende più x più 0 dove x è il numero di creature che controlli con base power 1 non ci interessa niente questa cosa qua ci interessa la seconda abili c'è la terza verità le spelle creature che lanciate hanno offspring 2 allora offspring praticamente una specie di kicker voi pagate due on top della spell creatura attenzione mentre la castate non sapete se risolve non sapete come entra non sapete nulla dovete pagare prima due mana e poi vedete se lo fate e la creatura entra parte poi una trigger e oltre che ottenere la creatura normale ottenete il figlioletto quindi una copia 1 1 di quella creatura qual è la creatura migliore da copiare questo effetto doc side praticamente pagate quattro quindi eppure man efficiente e fate due doc side quindi ottenete poi casino di treggiore fate le peggio cose poi magari avete pure dei duplicatori di token perché i mazzi si giocano in quel modo insomma disastro disastro allora qual è un modo però per fregare i giocatori di zigna lo leggiamo qua ve lo traduco direttamente allora se zigna lascia il campo di battaglia e voi avete castato una creatura con offspring pagando anche il costo di offspring ma appunto prima che risolva la spell voi non ottenete l'uno 1 perché la creatura che entrerà perde offspring quindi detto in parole povere io gioco contro l'uno cazzigna lui mi fa tappo 4 faccio doc side con offspring perché voglio fare tanto mana tanti treggiore eccetera 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 in risposta io ti ammazzo zigna con una removal go for the trot a questo punto poi risolve il doc side il doc side anche se ho pagato 4 per via dell'offspring non ottengo l'uno 1 copia e questo è davvero molto 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 forte perché impedite a i giocatori di zigna di fare value e in più perdono due mana un top di questo perché magari loro provano a scombare o fare delle giocate forti convinti di avere determinate cose che però invece non avranno o comunque sono obbligati a farlo perché non è che possono dire e non lo pago più tardi l'offspring o lo paghi o non lo paghi punto ma perché funziona così perché cosa succede il fornitore di offspring a la spell e zigna se ci interessasse al cast cioè se guardassimo al cast della creatura si deve visione la televisione dopo gregorio se ci interessasse al cast è un conto ma qua è una trigger quindi la creatura che entra deve avere ancora offspring quando è quando entra ovviamente per far partire la trigger però se la lo perde perché qua appunto il fornitore della dell'offspring carazzigna non c'è più allora ciao e quindi in questo modo facciamo un gran danno che gioca questo mazzo quindi ragazzi attenzione sono giocate e attenzione anche se giocate contro per quel punto sapete che voi avete molte più finestre per interagire non siete obbligati a interagire in app tipo quelle robe strane aspettate che giocatore di zigna faccia le sue cose spende il mano in più poi pam e niente la mettete posti poco carino dove volete voi non ve lo specifico fate voi seconda carta che presenta opposition agent ragazzi sarà il quarto video che faccio io ogni anno faccio un video di ruling solo opposition agent perché ogni volta che becco della gente contro lo gioco spesso questo commander la gente non ci crede che funziona in questo modo ogni volta che io lo dico a fine partita alla gente perché magari vedo degli amici che giocano glielo dico non ci credono ragazzi voi potete guardare la mano nel vostro avversario quando lo controllate con no gregorio va in là con ma mai di là con l'opposition agent perché andiamo a vedere il ruling per quanto riguarda il controllo anche se un controllo parziale non interessa che stiamo controllando il giocatore solo per un pezzo cioè mentre cerca i grimori non cercano il grimorio e non è come main slaver che controlliamo proprio tutto il turno non ce ne frega assolutamente niente è un controllo parziale e comunque un controllo tutte le information questa regola qua praticamente tutte le informazioni che riguarda gli oggetti che sono visibili al player che è controllato sono visibili a entrambi i giocatori quindi ovviamente al giocatore stesso perché sono carte sue e al giocatore che lo sta controllando punto l'unica differenza che c'è rispetto al passato di tanto tempo fa è che non c'è più modo di controllare la sideboard dell'altro una volta quando controllavate l'avversario potevate anche guardare la sideboard quindi in modern tipo capitava spesso perché si giocava appunto main slaver in mono bluetron la prima cosa che facevano era prendere il tuo mazzo tira aprirlo guardare la side che è tenuta da parte nel deck box guardarla veloce chiudi ciao questa regola l'han cambiata perché faceva perdere troppo tempo quindi ricordatevi potete guardare la mano dell'ho anzi fatelo e gratis e gratis e un'informazione in più c'è oltre che a distruggerli tutti i piani sapete anche cosa farà per i prossimi turni quindi c'è incredibile altra cosa importante questa vabbè la gente lo sa ma lo dico allora come funziona l'opposition agent voi lo giocate l'avversario cerca il grimorio la carta anziché finire dove deve andare viene esiliata e potete giocarla finché rimane in esilio e pagarla con che mana volete il colore nel senso e e giocare anche le terre ovviamente allora anche se l'opposition agent muore e voi potete giocare o castare quelle carte perché l'effetto del poterla gioco giocare dall'esilio non è legato all'esistenza dell'opposition agent quindi anche se muore quella carta quella terra che avete rubato la potete giocare quindi potete anche prendere una carta che sapete che vi servirà in futuro e tenerla da parte lasciando la vita per questo è una carta che è fortissima giocata tantissimo in commander è giocata anche tantissimissimo in legacy perché anche lì si può giocare tranquillamente vincere per dire doomsday combo lo distruggi distruggi tanti mazzi di commander come magda o tanti mazzi che si basano sulle combo il tutorial è fortissimo però ragazzi la cosa della mano quella non ci crede mai nessuno ve prego ve scongiuro sappiatelo sappiatelo vi aiuta poi ultima energia combo che ruling che vi presenti diciamo e chromatic sphere chromatic sphere è una carta vecchissima è molto baggata praticamente è una carta che costa uno avete prendo quella di miro di questo di più avete tappa 1 la tappate sacrificata la sfera aggiungete un mare costi colore pescata una carta non può dire a base ma che c'è di complicato in questa cosa c'è di complicato che questa è una vita di mana quindi le persone non possono rispondere a il fatto che voi peschiate questa carta se voi attivate per dire la sono in main attivo la chromatic sphere e pesco l'altro non può dire in risposta allora faccio qualcosa in risposta tiro una spec con flash in risposta spella caso quello perché questa è la vita di mana e alla vita di mana tu non puoi rispondere per questo dico che è una carta baggata infatti casualmente la cugina di questa carta la chromatic star l'hanno fatta diversa l'hanno fatta che il pesca il pescare la carta fa parte di una trigger di quando lei muore questo è importante con varie varie cose già solo il fatto che non si possono fare spell in risposta voi capite già tante tante cose con tante carte che sarebbero forti contro le carte che pescano già non possono essere fatte ma per dire anche con i laboratori maniac per già anche questa sinergia importante fortissima i laboratori bene come funziona se voi non avete carte nel grimorio state per pescare vincete la partita questo si combina spesso con i peschini tipo che ne so se era un vision ponder brainstorm tutto quello che volete però se uno in risposta vi tira la removal e ciao laboratorio e magari ciao anche voi perché non avete più carte nel grimorio dovete pescare siete morti con chromatic sphere e l'altro si attacca io al laboratorio ho una chromatic sphere già per terra per i fatti suoi il laboratorio ok risolve entra non ci possono dire niente attivo chromatic basta fine avete vinto l'altro non può dire aspetta allora risposta e no non c'è risposta la chromatic sphere l'attivazione eccetera eccetera fa sì che l'altro non possa non poter rispondere perché l'abilità di mano attenzione può rispondere a un cast della chromatic sphere tensione ragazzi non non può tenere parole non può rispondere all'attivazione delle della dell'abilità della chromatic sphere perché quella è di mana e quindi in quanto vita di mana non si possono rispondere cioè è come dire rispondo al fatto che l'avversario tappi una terra è la stessa identica cosa fate finta che una volta che la chromatic sphere sia a terra ea terra risolta è come se fosse una terra da quel dal punto di vista dell'abilità ovviamente l'avversario se ha una foresta e fatta e fa tappa una foresta tingo mana verde voi potete rispondere no non si può una vita di mano non potete rispondere al fatto che l'altro tappi la terra per mana e qua uguale solo che è come se fosse una terra che ha una foresta per dirvi che a tappa giungi mana verde e pesca e tutto assieme e quindi l'altro non potendo dire niente rimane fregato in tanti casi come appunto quello che ho appena presentato del lavoro di medic niente ragazzi questi i ruling combos energie per oggi fatemi sapere ripeto ho mentito lo dico al fondo video che cosa mi può interessare questo formato come lo volete insomma feedback come sempre perché ci tengo a far tornare questa rubrica con bella potente è fatta bene secondo i vostri gusti noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao fate i bravi